Notte fonda per il Tolentino, doveva essere la gara del rilancio per i Cremisi. Arriva invece un'inattesa debacle casalinga contro un fossombrone ordinato e cinico, favorito peraltro da una lunga superiorità numerica. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Mobili e terza gara senza gol. Difficile esprimere un bilancio esaustivo e obiettivo sulla prestazione dei padroni di casa, colpiti da una catena incredibile di episodi sfavorevoli e castigati ad ogni minima disattenzione. Un periodo in cui nulla gira per il verso giusto, ma il Tolentino ha i mezzi tecnici e la tempra per risalire la china. Per il fossombrone un colpaccio che riaccende una stagione, fino a questo punto estremamente deludente e tribolata. Cremisi in campo con Melchiorri, unica punta, supportato da Santoni, Marani e Jacoponi che fluttuano sotto il fronte d'attacco. Assetto prudente per mister Fucili con Cecchini isolato in avanti, Belcaida a sostegno e due mediani a protezione del blocco arretrato. Canovaccio della gara piuttosto prevedibile, pallino del gioco in mano al Tolentino, Fossombrone rintanato nella propria metà campo con l'intento di chiudere ogni spazio e ripartire in contropiede. Al terzo Santoni crossa dalla destra, deviazione in corner di una difensore ospite. Il numero 7 di casa chiede un fallo di mano, ma l'arbitro Cosignani lascia proseguire. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Capparuccia si libera sul secondo palo, pregevole la coordinazione, ma Zallocco si accartoccia e blocca. Tolentino paziente e alla ricerca del frasseggio ragionato per scardinare la cassaforte del Fossombrone. Al nono Santoni conclude, Zallocco si oppone come può e Melchiorri da posizione defilata, calcia sull'esterno della rete. Si affievolisce la spinta propulsiva dei Cremisi, frequenze troppo basse per arrivare in zona gol. Al sedicesimo Melchiorri danza in mezzo a tre difensori e frana a terra. La logica suggerirebbe il calcio di rigore. Il direttore di gara, Cosignani, ammonisce invece per simulazione il bomber Tolentinate. Passano i minuti e persiste la sterile supremazia territoriale del Tolentino. La manovra pecca di continuità e velocità e la disposizione guardinga degli ospiti crea non pochi fastidi alla squadra di mobili. Allo scoccare della mezz'ora, l'episodio principe della gara. Melchiorri scambia con Jacoponi e parte sulla fascia sinistra. Duello con il giovane Battistelli che finisce a terra. Inflessibile l'arbitro Cosignani che estrae il rosso diretto. Il contatto e il gesto ci sono tutti ma l'entità appare del tutto trascurabile. Furioso mister Mobili Tolentino colpito al cuore in un momento già critico della gara. La squadra di Fucili cerca di cogliere i frutti della superiorità numerica. Al 39esimo percussione centrale di Giorgini, destro a Pelo d'Erba che sbatte sul montante. L'Ori si salva. Al 40esimo conclusione dalla destra di Cecchini, L'Ori si oppone con qualche imbarazzo. Tolentino tramortito in piena confusione mentale. Marani agisce da punta centrale a supporto Jacoponi e Santoni. Un paio di possibilità su calcio piazzato, gestite con poca lucidità dai ragazzi di Mobili. Squadre al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Tolentino inizia con piglio diverso, più aggressivo e propositivo. Al secondo minuto tiro cross di Santoni smanacciato in angolo da Zallocco. Al terzo spiraio per Marani, sinistro però da dimenticare. Nonostante l'uomo in più, i piani di guerra degli ospiti non mutano di una virgola. Difesa a pieno organico, baricentro schiacciato e ripartenze esporadiche. Tolentino volenteroso ma improduttivo in fase conclusiva. Il nervosismo è palpabile ed è la palissiano sottolineare la mancanza di Melchiorri. Al decimo Santoni a terra in area di rigore. Non c'è fallo secondo Cosignani. Al quarto d'ora intervento di Iommi, giudicato falloso dal fischietto riverasco. Molti dubbi e proteste furenti di Mobili. Dalla punizione susseguente scaturisce il vantaggio ospite. Cecchini trova il guizzo vincente bruciando la difesa Cremisi con un colpo di testa imparabile per Lori. Partita tragica per i Cremisi, fiaccati anche nel morale. Mobili sbilancia l'assetto con Cantarini al posto di Sabatini. Fucili sostituisce Cecchini con Cinotti che al venticinquesimo si presenta al tiro. Lori fa buona guardia. Il Tolentino ci prova con tutte le energie rimaste ma le avanzate sono caotiche e per lo più basate su iniziative solitarie. È davvero arduo mantenere il filo della ragione in un simile contesto. Al trentaduesimo Cinotti sfonda sulla sinistra e prova il Lob a scavalcare Lori. La sfera colpisce due volte la trasversale. Riprende il forcing Cremisi. Al trentacinquesimo colpo di testa velenoso di Santoni. Zallocco recupera la posizione e salva la porta. Al trentasettesimo punizione telecomandata di Jacoponi. Traversa piena. Destino davvero perverso per il Tolentino che al novantunesimo incassa anche l'umiliazione del raddoppio. Cinotti indisturbato salta Lori e deposita in fondo al sacco. Finisce 2-0 per gli ospiti. Risultato non veritiero ma che apre ufficialmente la crisi in Cassa Tolentino.